Buonasera ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gabbo e siamo qui ritornati nella terza episode di Resident Evil Revelation 2 Signori siamo qui, siamo arrivati a questa parte, l'avevo interrotto qua per vedere cosa c'era dietro a questo garage Garage tra virgolette Eeeh, si Sta bene, sta bene C'è rottino Torna nuova Comunque io sento dei rumori tipo sbattere sull'acciaio, tipo sulle porte, vabbè Corri forest 100% che non la prende Cioè, era ovvio Ovvio Ci aprono le porte a caso perché qua tanto Comunque c'è qualcuno che ci osserva E bisogna ancora capire bene chi è e chi ci osserva Mazza che bel posticino, andiamo con il pompa Ci sa mai Perché la pistola, boh, mi sembra un po' scarsetta Vabbè, una pistola non è che mi posso pretendere, vabbè una magnum Sembra una pistola, calibro 50, ma vabbè Mazza che allegria Certo che è un oggetto, delle munizioni, c'è niente Niente Dopo niente Vabbè Ah, che allegria Non riesco a scendere Cos'è quella roba blu Non riesco a prenderla Manco a salire Mannaggia che palle Dai, voglio qualcosa Cos'era, un piatto, una moneta, cos'era No, niente Boh, ci proverò quando ritorniamo su Vediamo le chiavi Porca miseria, porca Ma vattene a fare Già morto Minchia Un pompa allucinante Ma buongior Ok, 100% che quello col caschetto è più resistente Ho solo tre colpi, porco Due Mattia, sta pezza, figlio di buona donna Sono già morti Ma, pensavo che erano un po' più resistenti Vabbè, per fortuna, già ho pochi colpi Oh, grazie Beh, della pistola Dai, voglio il pompa Munizioni per il pompa, vi prego Ho solo un colpo La tizia è scappata su Io voglio qualcosa Ma è caduto Non era Vabbè, lasciamo stare Dobbiamo ritornare Ah, dobbiamo ritornare fino alla ragazza Che è ancora viva La ragazza è ancora viva Non è vero mai Ma, almeno, non lo so Penso che sia morta Perché Era lì a casciata a terra Non penso che la lasciano lì Quindi Mi spiace Ma è crepata Oltretutto che io al tizio Gli avevo sparato Ma era proprio scriptata la cosa Vabbè Munizioni Ma buongiorno Guarda lì come corre Niente Ho voluto provare la provata Uccidono prima Esco addirittura in pre-fire Su Resident Evil Cioè Oltre a COD Usciamo in pre-fire Dappertutto Anche se qua Non è proprio una grande idea Tanto che I colpi già scarseggiano in sé Porca va Ok, sto tizio è Minca che mira di merda Porco 2 Mamma mia Questa canzoncina Mamma mia Che palla Niente Eh vaffancio Ma che è Vabbè Complimenti Complimenti Ben salto Gli do un dieci Per il salto Ma complimenti Oh ma vuole che fare Minio Ma che gli dare I massaggini Col coltello Ma ma porca miseria La crepa 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 Non crepano Già finiti i colpi Di nuovo Già che il coltello Non toglie niente Quindi c'è Finito quello Buona Oh vediamo se scoprendo Le piatte Poi mi sa che ci vediamo Al prossimo episodio Piatto Moneta Qualche sia Vabbè Ci sono riuscito Bella ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Bella Ciao 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 Ciao